Ciao a tutti, in questa nuova lezione vedremo come disegnare direttamente in 3D. Per disegnare in 3D verificate di essere nella modalità Model e a questo punto ci concentreremo sul menu Create. Qui avete una serie di primitive, cioè di forme tridimensionali già pronte per l'uso. La più semplice è Box, cioè parallelepipedo. Come sempre scegliete il piano su cui disegnare, per esempio XY, poi date il punto di inizio, che si appiccica come vedete con lo snap al piano, le dimensioni che potete modificare direttamente, per esempio se volete creare un cubo da 50 per 50 basta digitare direttamente 50 e con Tab passare all'altra casellina. e dopodiché potete, vedete il cubo viene disegnato, potete specificare l'altezza. Tutte le misure possono essere modificate anche a mano lateralmente, hanno effetto immediato. e quindi premette ok per creare l'oggetto. Così come il cubo Fusion 360 mette a disposizione altre forme, le solite, tipo del cilindro, come sempre scegliete il piano, il centro e il diametro. Anche qua poi sollevate e la figura è pronta. Le altre sono la sfera. Specificando anche qua centro e raggio, niente di eccezionale. e avete anche possibilità di creare anelli, chiamato anche toro. Dando raggio interno e il diametro del toro e poi la direzione di espansione, cioè se verso l'interno o verso l'esterno o in entrambe le direzioni. Quindi in questo modo potete disegnare delle forme primitive e lavorare già in 3D. Disegnando delle forme primitive e tridimensionali, l'approccio per la modellazione potrebbe assomigliare a quello per esempio di TinkerCAD, dove lavorate con delle parti e, qui disegno un box, poi un cilindro, un piano e il raggio. Quindi create le forme base e poi le combinate in qualche modo. Per combinarle dovete andare a modificarle, dovete magari spostarle e combinarle. Come si fanno a spostare gli oggetti? Selezionate un oggetto che vi interessa. Come vedete è molto difficile selezionarlo con un'azione di trascinamento. Quindi si può andare sulla parte laterale, sul browser, aprire il menu body e cliccare su body. In questo modo ho selezionato per intero il parallelepipedo. Ora premendo M, che corrisponde alla funzione del menu modify, move, copy, vedete che appare un goniometro con delle frecce sull'oggetto, e in questo modo posso spostarlo, per esempio cercare di mettere il parallelepipedo qua sopra, proprio sopra il cilindro. Uso le frecce perché le frecce vincono il movimento dell'oggetto solo sulla direzione specificata. Potrei anche usare questi rettangolini che muovono l'oggetto sul piano orizzontale, per esempio su quelli verticali, oppure lavorare con il punto centrale che ha detto il pivot, ma in questo caso non riuscirai a controllare la posizione. Gli altri tondi che vedete servono per ruotare. Cambio visualizzazione e posso scegliere come far girare, come ruotare l'oggetto. Tutte le trasformazioni, quindi traslazioni e rotazioni, possono essere impostate a mano, modificando i valori nella finestrella che si apre lateralmente. Potete diminuire il numero di oggetti visibili, cioè di handler, potete diminuire il numero di handler visibili usando questo piccolo menu, quindi forzando per esempio solo sulle frecce o tenendo la visualizzazione completa per non confondersi, per fare una copia potete spuntare Create Copy, questo crea un nuovo corpo, vedete che qua nel menu laterale sotto voce Body è comparso il Body numero 7. Una cosa importante della funzione Move Copy è la possibilità di poter spostare il pivot, cioè il punto centrale a cui fa riferimento tutto l'oggetto. Qua non è molto visibile, cambiamo la visualizzazione, se metto una visualizzazione, eccolo qua, anche con i lati non visibili, vedete che li fa tratteggiati, vedete che il punto di pivot è impostato sul vertice, quello nascosto. Io posso scegliere di spostarlo e metterlo dove preferisco, utilizzando Set Pivot. Ad esempio voglio metterlo al centro di una faccia, quindi clicco al centro della faccia, con l'autosnap viene posizionato, e dopodiché clicco anche questa spunta verde per confermare la posizione. Ora il pivot è centrato nella parte centrale della faccia, se ruota, vedete che ruota l'oggetto utilizzando l'asse centrale. Questo è molto comodo per impostare un punto di riferimento migliore rispetto a quello proposto dal programma. Grazie a tutti.